Ti racconto una cosa, venite qua e ti racconto una cosa. Allora, quando ero bambino, andavo dal mio nonno e con i miei cugini facevamo il gioco del salta a letto, salta a letto, che poi è questo, questo. Faccevamo dei sacchi così, sulle con la mano, in volta, si, faccia delle cose, mi aspettava, prendeva sempre il sacchio della mamma, che era il più robito di tutti. E poi, poi c'era anche Gustavo, Gustavo, però Gustavo invece prendeva il cusino della stia. Let's go! Chffa? Apreguate avverscriutsi estellung della stia, Gustavo, ho pubblicato, ok? Pergimenti dimentica 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 dimentica. Chah! Pergimenti dimentica 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 Patti. Sì, sì, sì A presto, a presto, a presto. Buona notte. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no What are you doing? Go to sleep now!